Siamo... Sodomizzo la lecce! Che dici? Sto chiamando lecce! Pronti? Pronti? Eh? Pronto? Pronto? Chi è? Ah, è lei Berficon! Scusi Sam, ma adesso la saluto perché... Mi raccomando, ingegner gli slenghi il suo destino nelle sue mani! Con le manine puoi evitare le manette, ecco! Allora siamo in tesi, tenga duro! Duro! Più duro di così! Eh, sì! Lo riconosco! Questo Beethoven qui mi eccita sempre moltissimo! Cos'è la quinta? Eh, che ne so! Io ho perso il conto! Vieni caro, lo riprendiamo insieme! Ah! È una parola! Mamma mia che stavo morto! Aspetta perinal ma vediamola! Va qua?